Vengo dall'Argentina per sostenere quest'Italia, perché quest'Italia a me, a me quando veniva la prima volta qui a Napoli, venito qua a tirare tutto, i orecchini, i bracciali, io venire qua per fare questa manifestazione, per aiutare i miei compagni d'Italia, perché io sto male, sto male, io quando venuto qua la prima volta, ma con i problemi della droga come siamo messi? Sì, ma voi i giornalisti qua italiani dite cose che non sono vere, non sono vere. E quando restituirai i soldi allo Stato Italiano? Io non devo più niente, come dite voi, non devo dare nulla, perché io ho dato tutto, a tirare gli occhini, i bracciali, a me non è rimasto niente, no? Ma è vero che il paese preferito del crotonese suo è Belvedere Spinello? Sì, la Calabria è bella, è un paese che mi piace, anche le donne, tutto mi piace a me, belle, belle donne pure. In Calabria si mangia anche, come si dice, peccante, no? Peccante, peccante. Ma con il pallone? E la pilota, no, con la pilota io mai ho chiuso, finito, basta. A me il pallone non basta più. Quando giocare nel Napoli io, a me i calciatori sembravano dirilli, io li facevo così. Per me io ero uno… Ora è lei un birrellone. Un birrellone, ora dicono che io ho preso droga, poi i giornalisti, no, non è vero, droga a me no. No, no, io no. Il corpillo Diego Junior. Sì, ora, ora, scusate, è l'entere mia. No, non c'è mai.